Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video, sono qui finalmente con un gameplay su next gen anche se questo diciamo che non l'ho registrato io ma praticamente ho fatto questo video per dirvi che finalmente sono passato a next generation, ho dovuto dare via a mezza casa ma comunque c'è Ciao a tutti 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 Qualcuno di voi l'aveva già detto nel video precedente, si tratta di Neymar, infatti sarei già potuto riuscire ad acquistarlo ma sfortunatamente visto anche le sue grandissime prestazioni è salito davvero molto di prezzo ed è adesso più o meno sui 300.000 crediti Io sto facendo una compra vendita che voi comunque potete assistere nella serie che sto facendo sulla compra vendita per guadagnare abbastanza crediti per giungere a... Ciao a tutti 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 Ciao a tutti